Buonasera, sono la dottoressa Molinaro, sono dirigente medico presso l'unità operativa di oncologia di La Mezzia Terme. Noi ci occupiamo in generale di tumori, quindi della cura del paziente oncologico in tutte le sue varianti, tutte le sue patologie. Però collaboriamo con il centro screening circa la prevenzione. La giornata di oggi è fondamentale perché serve a sensibilizzare l'opinione pubblica verso questo problema che è di un'importanza estrema. Prevenire il cancro significa dare la guarigione a molte donne. Oggi abbiamo sciorinato l'argomento in tutte le sue sfumature e abbiamo parlato di questo. Vi esorto ad essere sempre presenti e a seguire quelle che sono le nostre indicazioni perché solo così riusciamo a combattere la malattia e insieme si vince. Quindi aderite ai programmi di screening, i programmi screening per quanto riguarda il tumore alla mammella, il tumore al colretto, il tumore al collo dell'utero. Fate questo e cercheremo di migliorare quella che è la salute di noi tutti e garantire il benessere per tutti.